Celebriamo oggi la solennità dell'ascensione del Signore. Gesù, com'è, proprio dice il termine, che ascende al cielo. Ma questo non significa che Lui ci lascia soli, infatti ascolteremo proprio nel canto del Vangelo che Lui è con noi tutti i giorni. E il Vangelo di questa domenica, tratto proprio dall'Evangelista Luca, ci invita ad essere testimoni. Ma di che cosa siamo chiamati ad essere testimoni? Del fatto che Cristo ha patito ed è risolto il terzo giorno e nel suo nome siamo chiamati a predicare a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. La resurrezione di Cristo, la sua morte, la sua passione, a questo fine, la conversione e il perdono dei peccati. Grazie. 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 Grazie.